Un momento di riflessione sulla particolare congiuntura che sta attraversando la politica in Italia in questo periodo. È stato questo l'incontro di sabato scorso all'auditorium De Cecco di Pescara, organizzato dal quotidiano La Discussione su impulso dell'onorevole Gian Piero Catone. Qualificatissimi gli ospiti e gli interventi da Vittorio Sgarbi al vicepresidente della Camera Rocco Buttiglione, il passato e il presente della Regione Abruzzo, dall'ex governatore Antonio Falcogno all'attuale Gianni Chiodi, il presidente del Consiglio regionale Pagano, il presidente della provincia di Pescara Testa, il sindaco Mascia. È una valutazione molto critica quella sulla classe politica italiana che di fronte alle difficoltà si è tirata indietro dimostrandosi incapace di decidere. In questo momento non abbiamo una classe politica, abbiamo una classe politica che ha preferito scendere da una nave facendo condurre in porto, facendo arenare questa nave da altre persone. Io dico che è il momento che la politica, che i politici si rendano conto di essere tali e che tornino sulla nave e che si prendano la responsabilità di guidare questa nave, se la sanno guidare, oppure che abbiano quantomeno il pudore di dire non siamo in grado. Forse se noi non abbiamo politici che si sanno assumere queste responsabilità o che si possono assumere queste responsabilità, forse c'è qualcosa che non va nella legge elettorale. Il governo Monti non era la soluzione migliore, lo ribadisce il presidente del Udc Buttiglione. Infatti noi non volevamo un governo tecnico, noi volevamo un governo di grande coalizione. Quando una coalizione non ce la fa, si mettono assieme tutte le forze per affrontare i problemi. Berlusconi e Bersaglia hanno detto di no. Buttiglione ha un'idea precisa sulla svolta che la classe dirigente deve effettuare nel dopo Berlusconi. L'inizio di una nuova politica, non più la politica degli eterni processi di Berlusconi, delle misure per influenzare i tribunali, ma il lavoro, la possibilità per i giovani di mettere in piedi un'impresa, la possibilità di reggere la competizione internazionale, perché lavoro vuol dire competitività, credo che qui si è cominciato a costruire un'altra politica. Mi auguro che si vada avanti. Sferzanti anche le osservazioni di Vittorio Sgarbi, che estende le sue riflessioni anche in ambito europeo, con un parallelismo. L'attuale posizione della Merkel rispetto alla Grecia e all'Italia, che sono due aree meridionali dell'Europa, sia come la posizione della Lega rispetto al meridione d'Italia. Sono posizioni che si avvantaggiano di una condizione di fatto favorevole, non pensando a quelli che sono materialmente più deboli, ma che non per questo sono i più ricchi di patrimonio. Per cui è evidente che tra l'area del nord Italia e quello che c'è da Roma in giù, la quantità di patrimonio artistico che connota l'Italia, e di bellezze, di monumenti e di mare, è infinitamente superiore. Allora è immaginabile che noi abbiamo avuto per vent'anni un partito che ha pensato di perdere la parte migliore dell'Italia, al punto tale che Miglio immaginava di cancellare la Sicilia, e ha caduto il paradosso che la mafia che era in Sicilia fino ai primi anni 90, oggi non c'è dubbio che sia molto di più in Lombardia, perché quantomeno tu hai proceduto allo sviluppo economico delle aree meridionali, tanto più le necessità della criminalità hanno trovato sfogo altrove. Il problema non è quello che noi dovremmo fare, è che c'è un'assenza di pensiero che consenta di valutare le opportunità, le peculiarità, le caratteristiche di un'area rispetto all'altra, e quindi su questo non so che dire, è un problema forse anche economico, è un problema di visione, è un problema di prospettiva, però è difficile immaginare che improvvisamente l'Europa si senta la Grecia.